Ogni giorno in Italia una ragazza o un ragazzo adolescente ma anche preadolescente tenta il suicidio e l'incremento dei casi negli ultimi due anni del 75% e l'allarme lanciato dalla Federazione Italiana Medici Pediatri. Un fortissimo disagio tra i ragazzi scatenato dalla pandemia, i lockdown, le misure restrittive e il distanziamento. Il numero di consulenze neuropsichiatriche richieste per stati depressivi o ansiosi è aumentato di 11 volte. In particolare sono lievitate di quasi 40 volte le consulenze effettuate in urgenza per tentativo di suicidio e comportamenti autolesivi nei giovani tra i 9 e i 17 anni.